Si partirà domenica 23 giugno con la rassegna teatrale cinematografica e di intrattenimento nella Villa Peripato a Taranto. Sono tante e variegate le proposte di quest'anno, come sempre più o meno abbiamo fatto per deliziare il nostro pubblico che ci sceglie. Le informazioni e la prevendita è già partita ovviamente per tutti gli appuntamenti. I biglietti si possono acquistare presso il botteghino del Teatro della Villa tutte le sere dalle 19 alle 21. La scelta dei film di questa rassegna ha privilegiato soprattutto commedie italiane, film comici, film romantici e di azione. Un'estate quindi all'insegna della leggerezza e del sorriso. Dieci le rappresentazioni cinematografiche per un'estate ricca di eventi con prezzi accessibili. Sarà un'estate ricca di eventi per la nostra villa con prezzi accessibili per tutti quanti, quindi abbiamo appunto la possibilità di godere della bellezza di questo bellissimo posto che arricchisce la nostra città con una rassegna cinematografica e teatrale alla portata di tutti.